...metta benedetto nel sacchetti, mi sono colpo... ...ma no, non parte qua, non ti dico, potete provare perché lo porto da casa con un più... ...vesti qua... ...in realtà, sanno qua... ...è un po' di... ...è un po' di... ...e un po' di... ...e un po' di... ...e un po' di... ...e un po' di... ...de... ...e un po' di... Buongiorno a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. Ecco, in gran rivolta, quarto classificato, complimenti. E il nostro capete, grande recupero, Federico Miglio, quinto, Atletico Caccati, sesto, Davide Moscatelli, sempre Atletico Caccati, bravo Davide. Grazie a tutti. 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 è arrivato anche Igor di Frankenstein ragazzi, gli manca solo la tomba ecco è qua Vincenzo, bravo Vincenzo, fermi fermi, vi siete adorati, ormai quello che ho fatto è fatto, mettoni in fila, bravo Paolo, con calma ragazzi, c'è un cartellino qui per chi non lo trova, manca Brancetto, ho trovato una Dacia, non mi serve il cartellino anche tu Stefano hai vinto un premio, ma il tuo te lo consegniamo nella tenda prima donna, complimenti, seconda donna, seconda donna, Silvia, Silvia e terza Valeria mettoni in fila che ci sono dei premi a sorteggio, è stato sperato che ci sono dei premi a sorteggio e arrivo altri amici, Carlatosca, bravi ragazzi, alto Carlatosca, gli sei involte, fermaci che sei arrivato, un po' di completi, un po' di completi, un po' di completi, un po' di Dacia, c'è un premio a sorteggio, una Dacia, Claudio, Claudio, tu hai la Dacia? Tu hai ancora la Dacia? Abbiamo trovato le chiavi di una Dacia, una ragazza che si guarda sul percorso, questa porta chiama, se sentite qualcuno che ha perso le chiavi della macchina ce l'abbiamo noi, bravo Carlatosca, sei riuscito ad accertarla, a casa, eh, grandissimo, bellissimo, col Bastupio, bravo, saura, eh, pioggia di aperiti dell'Atrittica Traccati, Enzo, bravo Enzo, Ivan, Ivano, e mitico Salino, brava, bravissimi, bravissimi, arriva anche la vera, brava vera, fermi, fermi, sconatevi, la pascena, fermi, 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 ecco qui, eccola qua, brava, 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 eccolo lì, New Entry anche lui, Orfe, grandissimo, 68, grazie, neanche 69, eh, è la destina oggi, musica delle grandi occasioni, eh, abbiamo sempre una Dacia, eh, ricordo sempre che abbiamo un paio di chiavi, eh, no, certo, bravi, bravi, bravi ragazzi, arrivati, arrivati, brava, ferma, ferma che sei arrivata, ecco qui, eccola, eccola, ecco la, atletica traccate, dai, forza, dai, dai, corri, corri, che ti prendono, brava, ferma qua, che sei fatto quattresimo, hai vinto un premio da ciao, ciao, ciao Pino, bravi, bravi, bravi Tapascioni, ancora nel cento, è l'ordine d'arrivo, non esageriamo, eh, perché se no, eccola, eccola, brava, bravissima, oggi la musica non collama, eh, vai, 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 arrivano ancora, prendi carta nanna, puisque del camminatore, eh, sì, 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 è qua, vieni, vieni, tieni, tieni, c'è la macchina, vieni, vai, va, va, vai, 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 attenzione alla macchina ragazzi attenzione alla macchina è inutile che se la esci ecco, ecco gli arrivi Andrea, grande Andrea bravissimo ricordiamo sempre che abbiamo trovato le chiavi di una dacia dacia bravo, bravo di una dacia l'ha trovata una ragazza corruata mi fa anche chi ti ringraziare è la qua che girava 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 magari lo ti ha risposto Roberto è lì lei lei, 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 lei è arrivata la raffa brava la raffa fa che bella manina a casa ti ha visto, ti vede, ti vede muta, muta eccola qua tapasciola piccata pasciola Alberto ha perso che l'affare quello lì adesso cosa fai? hai perso altra cosa il terzo non è la tua giornata grande carbatrutta mitici eccola qua anche io bravissimi ragazzi 103 no, tieni attaccati le cose col ventro se ti stai perdendo tutto oggi bravissima ferma tu che stai arrivata troppo potenzo terminatore bravi, bravissimi Giulia 106 107 108 hai vinto il 3 lui mi sorprende mi sorprende mi sorprende mi sorprende il mitico tapasciola fermo, fermo vieni ah ok sentici bravissima 11 11 11 dicesimo bravissima che sia ancora che ci stai riprendendo il sorteggio signora la signora non è bellissimo ma è simpatico 114 no no aspettate ragazzi consegnate camminatore torridone 115 ecco 117 papascioli invitici piano piano ragazzi che ci stai riprendendo il sorteggio bravissima bravissima no chi è arrivato oggi ti ha dato tanto eh eh domenico 120 grazie domenico vedete ho fregato oggi eh avete affattato il capo ragazzi ho un po' lì è questo è il capo lì come dove è questo o ma no è questo 226 scusa il quello il è il eccoci, fermi, fermi forza, andamolata volatona, volatona